Ciao ragazzi, bentornati, benvenuti sul mio canale. Se siete alla ricerca di un'idea originale, magari di un qualcosa di particolare da regalare a Natale, oppure se semplicemente volete decorare, profumare cassetti, armadi, il bagno, eccetera, seguite il video fino alla fine. Oggi andiamo a decorare una saponetta. Io la decorerò con delle cosette a tema natalizio, quindi colori rosso, bianco, eccetera. La mia è rettangolare, questa profuma la mandorla e la rosa, veramente un odore buonissimo. Ho già posizionato la mia saponetta su un tulle, in questo caso quadrato, potreste utilizzare anche un tulle rotondo, e al di sotto, come vedete, questo tipo di stoffa che si usa molto comunemente anche per le bomboniere, mi è piaciuto tanto, e quindi ho detto, voglio utilizzarli entrambi, ho posizionato la mia saponetta verso l'angolo più basso, come vedete, quindi non al centro, come sempre. E quindi proseguiamo chiudendo il tutto. Porto gli angoli prima verso l'alto, in questo modo, e poi chiudo con del raso. porto il nastro alla base e vado a fare un doppio nodo. Ho scelto appositamente di posizionare la saponetta verso l'angolo basso e non al centro, perché vorrei che sulla parte posteriore, come comincia ad intravederti, ci sia un angolo più alto dell'altro, e il resto poi andremo a decorarlo. Poi, come passaggio successivo, andiamo ad allargare il velo e questa stoffa a rete. La porto sempre verso l'esterno e poi verso l'alto. Come vi dicevo, vorrei che questo ciuffo venisse verso l'alto, e quindi tiro. Una volta fatto questo, vado ad applicare dei nastri. Voglio utilizzare questo nastro acqua carinissimo, ne taglio almeno 30 centimetri. Ho tagliato un po' più lungo. Voglio andare a fare una sorta di decorazione alta. Quindi voglio attaccare, voglio incollare il mio nastro in questo modo, incrociandolo, vedete, portandomi poi in alto. Quindi vado a posizionare della colla sul centro, vedete, proprio in questo punto, sul centro della saponetta. Quindi colla a caldo. Prendo il nastro, faccio in questo modo, quindi lo incrocio, e poi vado ad incollarlo centralmente, piggio. E procedo adesso con l'applicazione delle decorazioni. Prima di tutto utilizzerò questa rosa con queste foglie, sempre carinissima. questo l'ho utilizzato anche per delle bomboniere in qualche video precedente. Quindi metto la colla sulla parte posteriore e mi porto centrale. In questo modo, schiaccio, così che la rosa si incolli bene. E adesso procedo ancora con le altre. Ho pensato di applicare varie cose, per esempio anche delle pigne e del pungitopo. ne ho di due tipi diversi, uno appunto lucido e un altro invece con dei brillantini. Mi porto sul retro della pigna, quindi colla a caldo e incolliamo anche questa vicino alla rosa. schiaccio. Poi procedo con il pungitopo, l'ho già piegato in due e ho fatto una sorta di base che vado poi ad incollare sul retro della rosa. Incolliamo anche questo. e vado ad applicare ancora un'altra pigna. procedo ancora con l'applicazione di questo pungitopo con i brillantini al di sopra, come vedete, molto carino. Mi ricorda veramente tanto tanto è il Natale, mi viene anche voglia di mangiarlo, a dirvi la verità, perché sembra zucchero. lo piego, sempre andando a creare una sorta di base, vedete, sulla parte bassa, porto la colla qui sotto e poi incollo anche questo. Eccolo qua. Quindi una volta incollato io tengo sempre premuto col pollice in modo che si incolli bene e poi andiamo comunque ad aggiustare un po' la forma del pungitopo. Quindi sistemando un po' e poi i ciuffi e magari aggiungendo anche qualche fiocchetto a piacimento, si può dire che la nostra decorazione è terminata, io la lascio così, come vedete, carinissima, molto utile e perché no, appunto potrebbe essere veramente un'idea originale per sorprendere i nostri amici cari anche a Natale. Io spero che il video vi sia piaciuto, commentate, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao, grazie, alla prossima!